Bevono l'acqua a Copp Montecimone e si sentono male, 24 ore dopo. Un altro caso. Sono in tutto 4 le persone che dopo aver ingerito l'acqua acquistata nell'ipermercato Copp di Montevarchi sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari per disturbi gastrointestinali. La Unicop, una volta ricevuta la segnalazione, ha subito ritirato le confezioni. Il lotto è il 40.902 con scadenza giugno 2015. Avvisato anche il laboratorio di imbottigliamento che si trova a Modena per un controllo della filiera produttiva. Saranno i laboratori analisi della regione toscana a Firenze a dare nei prossimi giorni indicazioni esatte sulle sostanze contenute nelle bottiglie. I laboratori hanno ricevuto dai tecnici di igiene pubblica dell'ASL 8 area Valdarno una serie di campioni, alcuni prelevati dall'otto che si trova ancora presso il negozio della catena, altri sono residui delle bottiglie portate al pronto soccorso. La documentazione è stata trasmessa all'ASL di Modena e per conoscenza anche alla magistratura retina. Le prime tre persone che avevano accusato il malessere, ragazzi tra i 25 e i 28 anni, avevano riferito di aver avvertito odore di detersivo. A loro si è aggiunto un quarto paziente, un sessantenne, che 24 ore dopo, evidentemente non sapendo che l'acqua era intossicata, è arrivato al pronto soccorso con sintomi analoghi. Intanto è stato affisso un avviso dal titolo Informazione al consumatore nei vari punti vendita ed è stato predisposto un numero verde, l'800 80 55 80.